Premiato l'impegno civico nel corso della quarta edizione del Memorial Carlo La Catena, che si è tenuto nel teatrino di corte di Palazzo Reale. Nell'occasione sono state consegnate le medaglie d'argento alla memoria e all'impegno civico a Napoli e provincia. La commissione che ha assegnato i riconoscimenti era presieduta dal procuratore capo della Repubblica Vincenzo Galgano e composta anche dalla dirigente della Polizia Provinciale Lucia Rea, dal consigliere provinciale Serena Albano, che ha anche presentato la serata, dal presidente della Fondazione Banco di Napoli Adriano Giannola e dall'imprenditrice teatrale Albacchiara Caccavale. Premiata la dirigente scolastica dell'Istituto Duca degli Abruzzi di Napoli, Angela Procaccini, il responsabile dell'ufficio didattico del Museo Aperto del Comune di Napoli Antonio Caliendo, il brigadiere capo della Guardia di Finanza Giovanni Don Vito, il maresciallo dei carabinieri Fausto Ravioli, il direttore dell'ufficio giustizia e pace della diocesi di Napoli Don Tonino Palmise, il dirigente scolastico del decimo circolo e l'area Alpi Maria Rosaria Rinaldi e il maestro Giovanni Maddaloni. Consegnato anche il premio di rappresentanza del capo dello Stato all'associazione Carlo Lacatena.